Cari amici ci siamo sbagliati, abbiamo detto per tanto tempo che in Italia c'era perlomeno un giornale che diceva parti di verità rispetto alla situazione, questo giornale si chiamava per l'appunto La Verità, ma dovete aiutare Belpietro a salvarsi da se stesso. Oramai da qualche giorno e settimana La Verità scrive articoli deliranti, oggi riesce ad aprire con la notizia che esisterebbe un amico di Boldrini e Fratoianni che mantiene e gli orfani dei kamikaze islamici. Cioè Belpietro anziché di parlare della manovra finanziaria, della povertà crescente, della guerra in Russia-Ucraina, dello sterminio pianificato da Netanyahu contro tutti i palestinesi, se la prende con un ipotetico signore che mantiene gli orfani. Belpietro, fermati perché davvero stai andando a sbattere.